con calma oro e con jolly la macchina che stacca in questo istante si avvantaggia Pietrasanta di aerea attaccata da oro masca Pietrasanta e oro in coppia poi lungo lo steccato miele dell'orso a largo pantera a oro che sopravanza Pietrasanta 14 per i primi 200 metri oro masca passa a condurre sulla prima curva davanti a Pietrasanta, miele dell'orso pirata OM all'esterno scusate, pantera OM all'esterno poi in quarta posizione alla corda Milton Dante a largo pirata siamo al passaggio di fronte alle tribune con oro masca leader pantera che lo avvicina all'esterno in corda Pietrasanta a largo pirata poi miele all'esterno oro e con jolly, ancora Milton Dante in coda al gruppo Noodles BF 600 iniziali in 46 e 2 ha cercato insomma di portare un po' dalla sua il cronometro a largo c'è sempre pantera in corda Pietrasanta a largo pirata poi ancora miele Oregon a largo quindi Milton Dante Noodles BF in coda 1,2 e mezzo per i primi 800 metri in bocco da retto opposto alle tribune posizioni che non cambiano per il momento oro masca un'incollatura su pantera che viaggia al suo esterno in terza ruota l'attacco di pirata OM lungo lo steccato Pietrasanta dal fondo prova a farsi avanti anche Oregon jolly cambia ritmo però oro masca a 400 alla conclusione oro un vantaggio pantera all'esterno pirata in terza pirata sopra avanza pantera e punta su oro masca che si difende ancora numero 3 Milton Dante squalificato poi pantera Oregon jolly numero 8 Nudo SBF squalificato oro e pirata alle prese oro masca che prova la difesa pirata che insiste oro e pirata testa a testa oro e pirata ancora testa a testa vibrante nelle battute finali e sul palo pirata stampa oro per il terzo sono in linea Oregon jolly e Pietrasanta di Ere quinta pantera OM pirata e Ettore Vairani in salchi e al training i colori sono della scuderia doppia M la quota al totalizzatore 4 e 64 2 e 1 il totale pirata OM e Ettore Vairani vincono il premio cappelli Florence punto IT ultima corsa del convegno al Visarno per questa stagione ci rivedremo al Visarno il prossimo autunno e con questo è veramente tutto per oggi da Via Riberti a tutti la più cordiale buona sera buona sera